Voto le 5 peggiori squadre di Serie A dopo 7 giornate. Prima di farlo però vi avviso, la classifica è soggettiva e relativa, quindi va in base agli obiettivi e alle aspettative che ogni squadra aveva un mesetto fa. E poi mi raccomando, prima di dirvela, iscrivetevi. Tantissimi like qui sotto per avere anche la top 5 e scaricate anche OneFootball. Gratuitamente dal link in bio per avere sempre accesso ad ogni informazione calcistica. Chi più ne ha più ne metta veramente, Premier, Bundes, di tutto e di più. Link in descrizione. Quinto posto l'Inter, voto 5. Quarto posto il Monza, voto 4 e mezzo. Una vittoria, non cancella, un avvio imbarazzante. Terzo posto la Fiorentina, 4 più, il più soltanto. Per le ottime partite, anche se non vinte, contro Napoli e Juventus. La Juve seconda, voto 4 e primo posto la Sampdoria, voto 2.